ola ragazzi ciao belli e bentornati terzo video di aggiornamenti perché insomma sapevamo che giuntoli stava cucinando l'ho messo anche su su instagram alfredo pedullà ha parlato di una juve che sta cucinando che sta facendo tante cose ed effettivamente ci sono delle novità una che arriva direttamente dalla germania e che va presa non con le pinze ma con le pinzone quelle che vengono utilizzate per lavorare il ferro per cui si tiene il ferro caldo a debita distanza per evitare di ustionarsi e l'altra invece che è un po più concreta e reale che è una trattativa in uscita che pare ormai avviarsi verso una conclusione bentornati intanto come state mi auguro bene prima di iniziare ci tenevo ovviamente ringraziarvi per il sostegno che state dando al canale ma ancora non è sufficiente perché oltre il 50 per cento della gente che guarda i video in giorno vi sbattere questa questa statistica non è iscritta al canale forza e coraggio e poi grazie della partecipazione continuate così a commentare a dirmi le vostre opinioni che sono curioso di leggervi allora sta trattativa con la fiorentina ragazzi sta andando in porto le cifre non sono ancora chiare perché c'è una corrente giornalistica che dice tra i 15 e 18 qualcuno invece dice tra i 12 e i 15 per cui teniamo buona quella più bassa 12 e 15 no perché siamo pessimisti no meglio partire moise tutto in più tanto di guadagnato ma meglio partire dalla più bassa moise ken alla fiorentina dopo due anni a zero gol quasi è uno score veramente basso io avevo aspettative elevate l'anno scorso perché potevo impotizzavo un'annata un po più positiva per lui e questa non c'è stata poi poi si è fatto anche male diverse volte per cui la juventus già da gennaio aveva annusato l'opportunità di cedere almeno anche temporaneamente moise ken tanto è vero che moise trova un accordo con l'atletico di madrid poi non si fa per questioni legate alle visite mediche perché lui era infortunato rientrava a marzo e quindi non rientrava più nei piani societari dell'atletico madrid però già quella era stata una visaia cioè ken vuole andare via da quel che mi è stato detto da chi lo conosce direttamente è che moise avrebbe preferito una meta all'estero magari in inghilterra spagna eccetera però insomma quanto pare ha dato grande 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 apertura alla fiorentina la juventus sta accordando con la fiorentina per una cifra molto vicina ai circa 12 milioni ok 12 milioni cosa significa colpo gobbo plus valenza minus valenza eccetera allora anche qua ho visitato vari documenti legati al valore residuo dei giocatori qualcuno dice che mancano appunto 12 milioni 11,5 per la precisione di valore residuo ancora del ragazzo altri dicono invece che il valore residuo di moise è di 9,5 per cui se il valore residuo è 9,5 come detto da tanti anche da calcio e finanza se non vado errato la plus valenza e l'effetto positivo di questa transazione dovrebbe essere una cifra vicina ai quant'è? 2 milioni e mezzo però ci si leva anche di un ingaggio abbastanza ingombrante 3 milioni e mezzo circa all'anno che non sono pochi per cui la juventus in questo momento si leva a quest'ingaggio libera spazio e potrebbe poi lavorare per altri giocatori qualcuno parla di un Morata Ter come altro attaccante da aggiungere al roster del prossimo anno alla rosa del prossimo anno vediamo vediamo quel che succederà di fatto c'è che come ha detto Romeo come ha detto Fabrizio Romano insomma siamo vicini agli atti conclusivi di questa trattativa per cui Moise Ken è sempre più lontano dalla Juventus quindi abbiamo già delle novità interessanti da questo punto di vista e adesso aspettiamo non ci resta che aspettare domani credo che sia la giornata giusta affinché tutto si chiuda però ecco altra cosa ragazzi molto interessante da Sky Germania il Bayer Monaco a quanto pare vorrebbe intavolare una trattativa per Federico Chiesa Chiesa sapete bene la situazione contrattuale non ha rinnovato in scadenza 2025 però vorrebbe proporre uno scambio perché anche loro d'altro canto hanno un giocatore che non ha ancora rinnovato il nome di questo giocatore è Joshua Kimmich quindi nei discorsi con la Juventus loro vorrebbero inserire questa contropartita tecnica e poi quindi cartellino di Chiesa più 10 milioni per chiudere questo affare questa è la proposta che in Germania stanno pensando di fare questa proposta non è stata ancora fatta questa cosa teniamola un po' con le pinze perché Sky Germania ogni tanto le spara e poi non si caia nulla quindi vi dico con le dovute precauzioni quindi due giocatori in scadenza che possono essere scambiati che ruolo fa Kimmich? ragazzi può fare dal terzino destro perché l'ha fatto in passato fino ad arrivare a un ruolo di mediana quindi un giocatore che può giocare direttamente al centrocampo ha un ingaggio elevato e quello potrebbe essere un ostacolo se lui abbassa le pretese secondo me è un affare che alla Juventus stuzzicherebbe quantomeno poi non è detto che si faccia perché magari la Juve ha altri piani eccetera stuzzicherebbe però è un giocatore che è giovane perché mi pare che abbia 26 anni se non vado errato non voglio dirvi stronzate è un giocatore che insomma no dico stronzate ha 29 anni ha una certa esperienza col Bayern di Monaco potrebbe essere utile ora io non so neanche a livello di infortuni sarei curioso di andare a vederli adesso vado a rendimento infortuni di Kimmich se ha avuto tanti infortuni nella questo periodo ecco vediamo nel 2024-23 è stato malato febbricitante quante partite ha perso? dai alla fine della fiera quante partite ha perso? sei partite in tutto l'anno scorso comunque il Bayern di Monaco ha avuto sempre anche un calendario abbastanza abbastanza intasato si farà? non si farà? complicato da capire c'è da dire che la Juventus in ballo tiene ancora il discorso di Kefren Turam e per cui Kimmich quale sarà la sua collocazione tattica? perché Kimmich ragazzi ultimamente nella Bayern di Monaco dal punto di vista tattico è un giocatore che tende a essere utilizzato lì più in mediano come mezzala destra eccetera eccetera però può giocare secondo me anche benissimo da terzino è un giocatore un po' alla Philippe Lam nell'evoluzione che ha avuto del suo ruolo perché anche Lam se ricordate partì come terzino poi venne impiegato anche come mediano basso di prime impostazioni perché è dotato di buona tecnica sicuramente è un giocatore forte nei passaggi nella circolazione della palla molto bravo a crossare bravissimo bravo a proteggere palla calcia anche da fuori cioè è un giocatore che dal punto di vista tecnico è sicuramente privo di aspetti estremamente negativi unica pecca nei duelli aerei è scarso ma nei duelli aerei grazie alla sua altezza ragazzi 1.77 1.78 alto quanto me per cui è un anetto rispetto a quelle altezze che girano nel calcio professionistico però ragazzi vi dico non fatevi illusioni prendetela un po' con le pinze secondo me è una pista molto fredda ecco non sta di qua a fasciarmi la testa però insomma un video per raccontarvi entrambe le notizie una a cui credo un po' poco però vediamo se si velocizza qualcosa anche là o se nasce un'opportunità interessante dall'altro ovviamente c'è anche il discorso legato a a Moise Ken trattativa che vai verso la chiusura e quindi dopo Cagliorge Moise Ken potrebbe essere il secondo a lasciare la Juventus il secondo il quarto perché poi c'è anche Iling e Enzo Barrenecea quindi il quarto la quarta cessione in uscita che la Juventus andrebbe a monetizzare tutte e tre in scadenza poi ragazzi perché Barrenecea e Iling no Barreneceano due Iling e il signor Moise erano in scadenza signori questo è tutto aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti iscrivetevi al canale sempre fino alla fine forza Juve grazie a tutti grazie a tutti